Era il suo amministratore di sostegno ma avrebbe sottratto i sogli al fratello sofferente di una grave patologia neurologica e deceduto nel marzo di tre anni fa. A finire nei guai è Massimo Cecchini, un pensionato di 62 anni, residente a Petriano, ex impiegato di un'impresa di installazione di impianti elettrici con sede a Roma. Nei suoi confronti le Fiamme Gialle di Urbino hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 500.000 euro. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari che accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica ha disposto al sequestro dei beni nella disponibilità dell'indagato per un importo pari all'ammontare delle somme che lui, secondo gli esiti delle articolate indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di Finanza, avrebbe distratto dai conti correnti del fratello Michele, di 66 anni, gravemente malato. Gli accertamenti, anche bancari, hanno permesso di ricostruire i flussi finanziari in uscita dai conti correnti della vittima, rapporti sui quali era autorizzato e legittimato ad operare l'indagato in virtù della nomina da parte del Tribunale ad amministratore di sostegno. Il fratello Maggiore era stato ospitato da più strutture residenziali, dove risultavano accumulati ingenti debiti a causa del mancato pagamento delle rette mensili, una circostanza che strideva con i redditi da pensione percepiti da Michele e che mensilmente confluivano sui conti a lui intestati. Inoltre sono stati verificati numerosi ingenti prelevamenti riconducibili nella loro quasi totalità ad operazioni in uscita effettuate senza un'apparente giustificazione da parte di Massimo. La Procura della Repubblica ha provveduto così a formulare nei confronti del pensionato la richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di peculato.